Amiche ed amici del Nerdaro, bentornati ad un'altra puntata del format 200 lire inserite A. Oggi giocheremo a un gioco un po' più moderno del solito, ma un gioco che ho scoperto da pochissimo, che si chiama Violent Storm. È un picchiaduro a scorrimento in perfetto stile Final Fight, con una colonna sonora davvero di tutto rispetto. E come al solito andiamo a salvare la nostra dolcevità, andando smontano in un scenario quasi post-atomico. Belli personaggi molto molto grandi, violenza come se riceve su un domani. È una bellissima colonna sonora. Un cane che passeggia con tutti i suoi, è bellissimo. Possibilità di fare le prese e anche di iniziare a armare, proprio benissimo, ed assolutamente grande. È molto bella la gioca di un'altra. 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 Alcora dietro sembra Majin Bu quello che è. Che... che figata! Che figata! Sì! Non mi stiamo lasciando un passaggio. Se non è, però, si possono anche due due personaggi. Se non... ... Ah! Seppchedule fuori da terra! Prossimo ilettro ciò. Scosa! E' un'azienda! E' un'azienda! L'avete visto? Il mio amico di turno somiglia vagamente a Blankets. E' un'azienda! 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 Ok. E' un'azienda! E' un'azienda! E' un'azienda! un giro di passeggiore un giro di passeggiore bello davvero bello assolutamente perfetto abbastanza bello iniziamo dall'idea velocità passaggio trovato i non senses app Lancio passaggio 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 Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no No! 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 Ah! Parano! E niente ragazzi! Finisce così! Purtroppo! Molto velocemente! Nuova puntata del format 200.000 in serie A Molto bello questo gioco Molto perfetto, veloce e soprattutto il mondo Grazie per aver visto anche questo video Ci vediamo nei prossimi video sempre in poi Grazie! Ciao!